sono angela benvenuti in un nuovo video oggi vi faremo vedere i miei disegni che ho fatto proprio ora non è che c'erò questo è disegnato da un vero piccolo qua faccio la matematica faccio ancora la matematica e questo qua non è turone perché da tanto che non ci tocco questo è il primo disegno ho fatto vabbè l'ultimo sarà un altro rifletti questo sono io che sono felicissima non riesco a girare giriamo questo è il mio pancake oh quante cake è che io adoro i pancake i pancake di shika di shika di shika di shika qua stavo cantando nuda il mare da sola quando mi stade questa è cik shikai che io andavo incontro a shika shika è cattivilla io andavo da Shika però Shika ero un HOPEA arrabbiata, però io sono molto spaventata quando io mi brividavo, perché questa è Cica, allora mi piaceva vedere, io sono molto confusa, vedete, sono molto confusa, che qua Cica è molto, non molto in forma, ma moltissimo, questo è, questo sono io, che mi ha mangiato Cica, questo qui è il sandwich di mio, perché Cica mi ha mangiato, Cica mi ha mangiato la testa, vedete, avevo paura perché non mi ha mangiato la testa, vedete, mi brividavo, mi brividavo, mi brividavo le mani a papiera, questo è il coniglio viola, non so, mi si chiama, è da quanto tempo, non vedo gli animatronics, che è lui che, qualcuno l'ha picchiato e guardate, ci sono tutti i cosi, perché può funzionare, invece non funziona perché l'hanno fatto male e questo è il Freddy ultimo, ultimo, mi sei l'ultimo, e questo è il Freddy dolce che telefona qualcuno, Freddy dolce poi abbiamo finito, e guardate quanto abbiamo fatto, uno di Freddy, uno di Freddy dolce poi questo qua di lui, che si è fatto male, poi di me che mi ha mangiato, Cica, io che mi sono spaventata da Cica, di Cica, di Cica, io che cantava il mare nuda, il pancake mio di Cica, che avevo rubato la Cica, e questo è l'inizio dove io ero molto contenta, e al prossimo video, ciao 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 però iscrivetevi sotto al mio canale, io vendo le mie code vendo anche le mie code e comprate di sotto però ancora non le ho vede io lo vendo solo al negozio se volete vedere andateci però non mi ricordo quale negozio era sì che ciao 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 ciao